benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su mario sport mix ovviamente in compagnia di io ciao nello scorso episodio incredibile abbiamo subito una sconfitta su hockey e adesso ci abbiamo riprovato e dobbiamo fare il secondo set ma abbiamo veramente paura ragazzi perché siamo sei a tre è una cosa di prendere cinque punti secondi loro non ci mettono niente appunto c'è l'uomo cioè se noi non faremo niente quelli prendono la palla e fanno nero e poi pure comunque le palle che ci arrivano ogni due secondi è veramente una rottura però quando è il momento giusto lancia c'è semplice perché questo si toglie molto cosa ho tirato io io sto all'angolo è e ma così no eccomi vai ok tu eh ah stai per terra porca miseria come sono andata davanti là sono caduto vai no 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 tira perfetto perfetto ok comunque hanno due monete e non mi fido sono dovete arrivare a cinque e appunto ok ok questa è una moneta no ho tirato ok io vai davanti ma adesso come ho fatto io sto a prendere questa palla luigi chi è la presa che figuracce ok ci sto io dietro eh devi cliccare 1 1 e 2 vai 1 e 2 ok io mi metto avanti a chi la prende ok guarda guarda luigi è bello ho visto dove stava e l'ho fregato 10 a 6 ragazzi non diciamo niente perché la cosa si potrebbe anche cambiare ok così giochiamo di rimessa così no non la tirato ma mezz'alavi no no ok io passo da dietro e te la passo vai allargati di qua a sinistra perfetto vai ok hai visto gioco di squadra già così potrebbe funzionare però anche se ce la prendono capito c'è potrebbe causare problemi ok perfetto così ci dobbiamo mettere anche davanti almeno poi intercettiamo e la prendiamo noi comunque arrivano a 15 se ci fanno colmo si occhio eh dove stai qua nooo la riprendo io sto dietro eh tiraghi la palla ok tira un misto voglio fare qualcosa un misto vai aiuto ok no la ripresa ok ah ok dai no non più cavolo devo cercare sto largo eh eh pari mannaggia ma vai vieni oh oddio ho spionato la palla attenzione mannaggia ci monta autoballa e vai e vai ok per miseria oh è quello se frega sempre la palla la bella palla il disco aiuto con due persone non ce la farò mai no ok secondo me dobbiamo fare il sono tutti e due dentro la porta eccomi passa lo stai qua eccomi no non ho passato a volo perché ho visto che stai ma l'arco a satira ok non ci possono recuperare senza volete e siamo 17 a 12 non ci possono assolutamente recuperare senza volete non ci riesco mai che ritrovare in me prima l'ho fatto vai c'è una presa ci manca poco eh dai no questo non te lo posso fare ci penso io tira un missile muori tu soggimeli soggimeli di loro vai ci voglio chiedere papà ti sei innamorato tu invece che loro che so che ho fatto io ti eri innamorato perché quei po' rinnamorano e quindi li fermano però ti sei innamorato tu mi piace che loro però abbiamo vinto però ce l'abbiamo fatta dobbiamo veramente tirare un sospiro di sollievo perché perché veramente è stata una cosa atroce ora ci potrebbe essere o palacanestro o dodgeball io preferisco dodgeball assolutamente perché è leggermente più facile comunque vediamo secondo te chi è il cattivo secondo me è il gattino che è il mogulio anche secondo me sì ci abbiamo anche indovinato ok ok dobbiamo solo sperare che sia dodgeball perché io non ci ho mai fatto però quindi ora lei si risolverà cioè diventerà appunto quella cattiva guardate cioè sarebbe un maschio però non so perché è diventato penna e giocheremo su quella astronavie ok sopra la nave esatto però guardate cosa fa è quest'uomo ah che forza un tipo un samurai guardate cosa fa che fa da 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 si e noi dobbiamo appunto sconfiggere il male diciamo con giocando appunto a palacanestro a dodgeball e poi potremmo interessante e poi potremmo riprenderci la coppa ok ovviamente sta con quella tizia ma palacanestro anche perché qui c'è una scusate una cacchetta a giocare a non ci sa fare no fa schifo per esempio 100% stupendolo sempre così no no a bel passo ti roma basta non so lo so dobbiamo giocare molto di passaggio Vai Che hai fatto? Calma ci sono pure davanti Ma non c'è da fare Questo è difficile Ecco perché speravo No all'immagine volevo fare una cosa No ci sto Ok passa Troppo tardi Quando esce combinazioni E ma questi c'hanno ogni C'hanno ogni volta un coso E Ma cagare Questi ci fanno neri E poi cosa ci fa Parli in dialetto ogni tanto Non cosa fare Non devi stare sotto il canestro Non vale Non so niente Ok passa passa Ok Togli mi quanti Boom E questa è la guerra saluta 3 E più o meno Come? No Cosa? Che ho fatto? Non lo so Come ho fatto a prendere la palla Se era cascata? Non lo so C'è Ma io certe volte No mi chiedo Come sarà Questo gioco A fare certe cose Che non esistono Non posso esistere E se tu non salti Eccola Non te la posso passare In quel modo Non ce l'ha finita Cala di là Mannaggia oh No non ce l'ha finita No non ce l'ha finita una piccola Come che tempismo Però c'è proprio computer Si vede Dove stai tu? Eh ma se io so piccola Non mi faccia prendere la palla Ma io potevo fermarla quella Se so piccola Ti dovevi stare tu Tu ti arrabbi tantissimo Tu ti arrabbi Non ti devi arrabbiare Vai 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 Oh Ok No perché c'ho l'ansia Capito quindi Devi stare tra in solla Tu non la passi la palla È diverso Gioco di squadra E poi non passi la palla Scusami No perché hai passato a quella Quella passata a te Veramente Eh ma se ci stavo davanti Questa di fulminatoi Come io? Ma Cioè ma dai Ma loro l'ho fatta apposta Cioè volete che vince quella Eh Sì ma non è giusto Ho capito che Tu dici ok È una cosa che comunque Ti deve ostacolare Ma non che deve vincere per forza In tutti i modi Ma non c'è il secco Vai Che sta a fare con l'altra? Ma io stavo pure davanti Che è sta roba? Perché quello diventa Vasparente Eh sì Vabbè La tinta Io infatti ho provato A fare la finta Ma Non me la fa Perché quelli magicamente Capiscono che io Volevo fare la finta Beh Che bello Comunque gli stanno affanendo È una stella Cavolo Una stella Togli di mezzo Eh Vabbè ci ho provato Non lo fa perché tanto Eh Che ho perso Eh Ormai Abbiamo fatto Basta con ste pinte Del cavolo No Mi ha buttato Mi ha buttato E' tanto Mi ha buttato Mi ha buttato 20 a 20 a 14 Mi sa Non lo fa Già ci stanno le zanzare Eh infatti è mio è un punto Eh 20 a 11 Ci stanno già le zanzare Regate Lo che era una giravolta Lo che era una giravolta Di un avversario Gli farà perdere Delle brubbi Ok Purtroppo Vabbè Facciamo questa Vai Devi saltare Cioè come fa Lo so Eccomi Non te la faccio Ma io faccio le finte Come loro Faccio le finte Come loro A me non me le fai A loro sì E vabbè È tanto Eh no Ma è questo il bello del gioco Pure se ti arrabbi Tu ti rimassavo un quarto compagno Scusami è Eh no Eh allora che vai Vai su Vai Perché ti ha tirato sotto No Ho tirato a te Eh hai tirato sotto Non a me Ah eccomi Ma che 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 bella mira che ha piccia Ragazzi Non ci voglio credere Non c'è nemmeno Azzercato a me Mi è diventato pure piccolo Eh Ma sono Cioè devo Ma Come facciamo Sono quindici loro Guarda Io ho fatto pure così Eh Ho fatto la giravolta E non me l'ha data buona Giravolta spaziale E quando me la passi Eh te lo passavo Non è saltato Eh no Di quando c'è scritto Combinazione Vai Che ne so papà Oh Ma che ne so Che ne so io Tanto Poi se facciamo così Non cambia molto Tanto le pinte Ma papà Ma hai scherzo Chi Ma hai scherzo da me Come Ma se io non scherzo nemmeno loro Non posso scherzo da te E infatti vai scherzo da me Dai ma non ci sbriga Ecco perché Una cacca Bitch Ci sto io qua Ci sono io qua Ma dai Nemmeno ci azzecca Ma dai Ma dai Dove vai Si ha fatto il tipo belloso Ci sta Raffanieri Cioè non è che quell'oggetto entra E allora l'hanno fatto apposta Vai 1 e 2 1 e 2 Ho fatto le volte che Premo 1 e 2 Premo 1 e 2 Premo 1 e 2 e 3 Chi è? Prendi a 1 dei 3 A 1 dei 3 Cioè vedi che ho fatto una giravolta Cioè stai in primo piano Vince che fece la giravolta Cioè la tua hai fatto una giravolta spaziale Ecco perché Sui Ma tu dormi Tu dormi 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 Togli i diti di mezzo Sennò di Eh Non lo sapevo Sennò tocca di mezzo Che ma ti sei innamorato Perché mi sei innamora? Eh ne so Perché hai toccato un po' Ma muori Oh Gli ho dato un pugno sotto al minuto Non ha fatto niente Eh Scusa eh Ma Cioè ma piccio Quando sa A che cosa pensa? Pensa le nuvole Pensa Cioè fa piano piano Così Cioè non tu che te lo ruba la palla Quei tizi te lo ruba la palla E me lo sono accolta Abbiamo perso Vabbè ragazzi Raggiungiamo Io direi di fermarci qua Raggiungiamo i 30 mi piace Per Un'altra scompita No Veramente Ce la fai raggiungendo i 30 mi piace? Sì che ce la facciamo Voi li raggiungete così Velocemente Che i 30 mi piace Sono una volata Eh Ok Quindi io direi che possiamo Fermarci con questo episodio Perché sono stremata Ce la faccio Lasciate mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Sì 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 Grazie a tutti.